Antonio Barzaghi Cattaneo, Extremum Dedit Suavium, 1890 circa. L'artista ticinese crea alla fine dell'Ottocento una raffigurazione teatrale della morte di Gesù. La Maddalena bacia la bocca del corpo morto. Questo dipinto di grandi dimensioni usa un tema storico-religioso, come era tipico di quel periodo. Il sapore erotico della scena potrebbe alludere a una precedente relazione in vita tra la Maddalena e Gesù.